ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo brawl non ho mai giocato questo gioco non so cosa sia quindi è una è partita la musica adesso ok va bene è partita adesso controlli mouse tassiera ok jump jump ok video option va benissimo si può abbassare la musica non si può abbassare la musica opzioni credit perfetto non c'è il controllo del volume io non lo vedo se lo vedete voi mi fate un favore scrivetelo acqua aspetta ma il menu no c'è controlli non ci sono più i controlli si è rotto opzioni vabbè o meno customizzo il caractere cosmetica in more in avventure disco cosa vuol dire a non funziona torniamo indietro avventura esperto normale tutorial ok questo sono io pre space bar to jump ok jump jump shift sprint va bello già lo facevamo e però non si aggancia left mount switch qualcosa non sale ok devo dire che il controllo non è olioso per nulla quindi ci sta tu ragdoll left a left mouse no 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 vabbè non era un ragdoll sì in effetti è un ragdoll è proprio no ma basta ok ho capito signori ho capito praticamente se tu tieni premuto questo continua all'infinito fino a quando non ripremi di nuovo il sinistro del mouse ok passiamo di qua si fa un po' di fatica però vabbè così e poi faccio così ecco così ok try to ragdoll on this movie platform dov'è? e non la vedo io ah eccola ok e mo? devo andare la mi cato punto di là no vabbè ma secondo me aspetta forse secondo me sale e poi mi sposta di là si eccolo lì ah ok scende prende mi sono attaccato in una posizione un po' vabbè stavamo sempre un deficiente ora mi butto per te poi fa try to read on this over wall così mi salto e mi spacco in due va bene 3 di 5 ma ma così salto slafonico ho capito non è che l'abbia capito io eh ah ok ho capito al contrario perfetto premiere to respawn anytime ok walk uncosmented unlocked ok to respawn quindi se io sono qua faccio così no ok vabbè vabbè ok ho capito perché devi saltire di qua saltire di qua andare di qua ok salto e dico congratulazioni conferma ce l'abbiamo fatta questa era l'avventura normale tutorial playground eeeh che devo fare? 1 2 vabbè fino a qua ci siamo come il tutorial lì c'è qualcosa di qualcosa di strano qua regdollo come un cretino qua salto regdollo no corro regdollo no salto vai 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 c'è quasi non so poi dove devo andare io aspetta fammi vedere stai sicuro che devo andare lì? aspetta ma se io faccio invece così? eh eh dai attaccati maledette ecco vai scivola come un cretino no devo entrare là dentro? è impossibile quasi eeeh buh ok ci riprovo no volo eeeh ma se salto e regdollo no quindi è così ecco ma ce l'ho fatta prima aspettiamo un attimo regdolliamo di nuovo ah no mi sei sicuro dobbiamo andare lì e non dall'altra parte? scusa eh c'è non per essere però c'è qualcosa che non capisco tipo là potrei farlo direttamente così? vediamo no ecco così a volte succedono cose un po' strane eeeh del tipo quindi potrei fare così vediamo eh track no ecco no però posso andare dall'altra parte vediamo ecco sbagliato ho premuto il regdoll sbagliando uno sembrerebbero che i così rosa ti diano un boost della madonna è un po' da capire eh perché onestamente io non ci ho capito però magari voi siete più bravi di me è riuscito a capire il fatto è che devo salire sempre di qua mi dà un fastidio terribile però eh cioè questa parte qua ho capito che non sono un amante dei platform eh ah eh vai 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 orco giuda dovevo prendere lo spuntone ok andiamo no no ma ce l'avevo fatto ah ho capito aspetta eh vai regdollala regdollala devi premere regdolle lui ti boosta e ti butta giù ok regdollala muoio muoio sbatto e muoio no ok perfetto allora andiamo di qua scusa eh stafunnalzalo del caso che sta succedendo eh non so what the hell is this ok slur il problema è che quando faccio questo io non posso a meno che mi devo attaccare alla sua parete così blurle muoio muoio blur tipo morire due volte per terra ci proviamo blur allora fermo muoio muoio mi alzo muoio no maledetto ce l'avevo quasi fatta ziua ok abbiamo capito che il regdolle si è bellino fatto ok mo ah dobbiamo passare di qua e qua come faccio a passare tipo così aaa ok ok basta che mi attacco a questa cosa e lui mi trascina perfetto non l'avevo visto onestamente basta ok anche questo si aspettiamo la paratia comunque possiamo citare e andare di là secondo me che però non è un cit è una scorciatoia bello si attacca come un cretino guarda la posizione vabbè eh si il regdolle ha sempre fatto ridere tutti nei videogiochi sappiamo benissimo perché praticamente si staccano tutte le ossa finte del personaggio è nato per simulare diciamo la morte del videogioco della persona nel videogioco ok qua dobbiamo capire però scusa se mi attacco così lui mi spinge quindi qua non si attacca quindi l'unico è stare qua ecco fermo così due tre mi alzo muoio mi alzo muoio oh cos'è sto buco attenzione questo è devi fare così muoio è morto di nuovo ok salvataggio questi ah trituratore bellissimo ok salto tanto per divertimento ce lo facciamo ok andiamo di qua e andiamo di qua mai dire bonzai forse di qua esatto era questo muoio e poi andiamoci andiamo a mettere qua e ragdolliamo ce l'abbiamo fatta 5 di 17 quindi qua siamo morti eh si 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 qua adesso diventa un po' difficile perché dove siamo cosa è successo non lo so cosa sto vedendo non lo so è successo qualcosa di strano ecco così bravo cadiamo qua no no non cadere bravo alzati no perché mi hai spinto di no bravo ecco vai non so cosa ho fatto ma ce l'ho fatta vai questo ah forse ho capito esatto che figata vai 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 wow yeah ora qui è la parte stramba c'è bisogna fare così regdollare lui ci spinge dall'altra parte così però di là ha funzionato no forse devo fare no aspetta 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 forse devo portare indietro quando lo faccio no a meno che non dobbiamo fare così uno e no ci porta sempre di là secondo me c'era un'altra via vedi quando lo faccio al contrario invece sbilunca che è un piacere vediamo un attimo se riusciamo a fare così sì no ok dall'angolino dallo spigolo ci dà più potenza ci aveva dato più potenza vai vai bella lì ah ma c'era il bucolico qua perfetto corriamo ok ok e mo questo che devo fare salto e mi sbulo l'angolo dai 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 salto mi sbulo ok what ok ce l'avevo fatta 9.17 questo sicuramente è il trick quello là che ci lancia va bene vai dai 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 spattilo e questo è un po' difficile perché quando tu ragdolli non riesci a dargli una sequenza ma che sta succedendo una sequenza giusta cioè lui se ne va a cavolo fa quello che vuole vai 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 madonna mia ok adesso di qua sì penso di sì vai regdolla è qua la camera un po' eh oh 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 ma perché quando gira tutto si slafona qua la camera scusate ecco meglio così che cadere in acqua ecco così ti schiacci e mo e no ma sei sicuri che dobbiamo andare di qua ma non è che dobbiamo andare di là scusa eh no perché di là scendo di qua di qua salto ah almeno che potrei fare così cioè tipo guarda ah si può fare però secondo me cioè lui ha pensato lo sviluppatore dice se riesci fallo ok oppure fai qua ecco così fermo ma la la ma secondo me dovevamo andare per forza di qua ah forse se non regdollo quando salto è meglio perché sembrerebbe che perdi un po' di più troppo lungo forse ce la facciamo vai 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 non so dove siamo finiti 11 17 quindi dovremmo fare anche quello secondo me quello lì per farlo ci dobbiamo attaccare a queste cose così e mo' ci dobbiamo lasciare quando arriva l'altro tipo bla 12 17 hai capito abbiamo fatto al contrario no vabbè ok 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 aspettiamo aspettiamo che arriva e poi andiamo save zone 9 vai 3 2 1 ignition can guardalo 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 bellissimo ci butta giù no ok adesso qua è il salto normale vai salto del guaglio no vai guardalo guardalo superman paradopapa papapapa oh ok adesso stiamo attenti qua perché i salti normali ma veramente non si può ma siamo sicuri o sbaglio io eh dove ci manda lui ah no ci manda proprio lì ok aspetta eh che io no non ce lo fa fare il saltone Quello lì non ce lo fa completare Secondo me si poteva saltare solo dal lato E noi abbiamo Si siamo attaccati E credo che sia qua Sì Proviamo eh No E' troppo lontano Ok proviamo a fare Oh cacchio Ah vabbè però possiamo fare così Ce l'abbiamo fatta Ok Poi questo Questo No 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 Questo l'abbiamo perso peccato peccato Che cavolo No sbagliato Vai Ma perché non lo fa più Perché è più bello Perché non facciamo la scoreggia Tipo No vai Te Te Pereno Ok Vai No Si diciamo che Decide lui Allora vai Ok Vai Perfetto Vai Perfetto E mo Ah qua c'è un Come facciamo a passare di là Ah ok 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 Mi ricordo Oh Avete visto? Non sono stato io Ah ma ci butta indietro questo qua Ok Questo si passa Qua si passa Qua no Mi sa È tipo un labirinto No Ci rimandi indietro di qua Allora Eh passerò di qua Sì 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 In teoria dovremmo passare Uno Due Tre E quattro Ok Sbloccare questo Quattordici Dici Dici Sette Quindi a questo punto Possiamo andare qua Lui ci trascina Ci trascina Si è bloccato Signore Mi sono Com'era R Ok Quindi a questo punto Possiamo salire là Dovevo premere Ragdoll Wow Ok Aspetta Questa è facile Ok Problema che non sai mai Dove vai a finire Come funziona Quanto gira Uno Due E Tre Ecco Così si ferma Perfetto Quattordici Siamo tornati di nuovo qua Signori Da quello maledetto Lì sopra Che Non so come si faccia Oh Ah Ok 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 Bello Quindi Lo facciamo Per così Vai No Ce la volevo fare Quanto Lontano andiamo Lo so che vuoi fare quello Però Non ce l'ho Non ce l'ho No 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 Incliniamo di più Incliniamo di più Incliniamo di più Yota Incliniamo di più Così Vai No Ti trascina sempre di là Eeeh Ecco Che è successo Vai 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 Ecco Dove siamo andati In un posto brutto R Eeeh Eeeh Così Vai C'è un coso verde lì Che non è male Ecco Fai No Così Questo qua non so Dove siamo capitati qua Vediamo Fammi vedere No Quello l'abbiamo fatto Ah Ok Ho capito qual è questo Ecco Questo Eeeh Sì Secondo me l'abbiamo fatto un po' diversamente da quello che lui si aspettava Eeeh Eeeh Dobbiamo vedere di Prendere poca rincorsa Vai No Troppo poca Qua Fermo No Ma Pirla io Che ho premuto la R Guarda Ah Un po' di meno Vai No Ratta Vai Eeeh Teberello No Vai No Quanto può essere divertente Una meccanica Di un gioco Di cui Non ce ne Importa mai nulla Diciamo Quando si gioca Ci ha salvato Ci ha salvato Ci ha salvato qua Ma quindi Possiamo fare così Prillo Ecco Adesso il problema Io ne siamo tornati indietro Ma non dovevamo Secondo me fare sta cosa Però abbiamo sbloccato Quell'altro Ecco Magari dobbiamo andare così Pino No Lo vedo I piedi Ecco Che What Ma ci ha portato indietro Si ci ha portato indietro Ok Vabbè Vediamo se riusciamo a fare sta cosa Boing No Eeeh Dai 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 No Ok No Eeeh Morto No Signori Non ce la faremo mai Sì Ce l'abbiamo fatta Ok Vai Spiaccicati Andremo A provare a vedere Se riusciamo a prendere quello lì Eeeh Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ci siamo attaccati Ok Allora Qua non c'è niente A meno che dobbiamo attaccarci là E staccarci da lì Non lo so Proviamo Vai Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta 16 Eh 17 No Mi manca M mappa Eh no Il 17esimo mi manca Qual è? Quello là sotto Quello là L'altra parte Sì 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 ho capito Qual è Eh però Così ho capito Vai Vai Ho capito Vai Vai Ok Ora mi salvi Sì ok Perfetto Ci manca Praticamente quello là sotto Quello là Che avete visto là È quello là Quello lì ci manca Quindi per fare quello Io dovrei fare No Aspetta salviamo qua Vediamo se ci riusciamo eh No No Per fare quello Ci dobbiamo Caltapultare Da quel lato lì Tipo Così Madonna mia Si Ma vieni Ok Wow Go back to Bay menu Ok Signori Bene Io direi Di chiudere qui Il gameplay Spero che vi sia piaciuto Scusate la mia esultanza Si può dire esultanza? Ma che se ne frega Ma soprattutto perché è stato veramente Una botta di fortuna O magari no È proprio il gameplay Non lo so Comunque lascio a voi decidere il tutto Lascio a voi come per esempio Se vi piace oppure no Il gioco Le fatempo vedo le persone cadere lì Sono bellissime Lasciate un like o un commento Se vi va iscrivetevi Per supportare questo canale E come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye